Noi diciamo no ad una democrazia impostata dal Partito Democratico, che ricordo a tutti è quel partito che caccia un presidente di Consiglio regionale perché è contro le trivellazioni, che caccia i sindaci anti-TAV, che elimina dalla Commissione Affari Costituzionali Mineo perché era contrario alle riforme renziane, oppure obbliga i propri consiglieri comunali romani a recarsi dal notaio per dimettere il sindaco di Roma. In questo testo sui partiti c'è anche una norma sulle sospensioni e sulle espulsioni, qualcuno l'ha definita una norma salva Pizzarotti? Non c'entra nulla, Pizzarotti farà le proprie controdeduzioni, ma è molto molto normale, noi siamo una forza politica di massa, per cui è evidente che abbiamo delle problematiche interne, ma si risolvono, ma le problematiche da risolvere sono i problemi dei cittadini, questa è la carta dell'onestà. Qui abbiamo dei corrotti che riformano la Costituzione, la corruzione costa 60 miliardi di euro all'anno, ogni mazzetta in più ha un posto letto in ospedale in meno, ogni tangente in più è un asilo nido in meno, questi sono i problemi degli italiani. E noi abbiamo delle soluzioni, spero che possiate spiegare che ci sono delle proposte che il Movimento 5 Stelle ha sviluppato negli ultimi tre anni, serie e concrete, che possono sconfiggere o indebolire il dramma della corruzione.